Oggi Messina potrebbe avere il nuovo sindaco, la clamorosa novità potrebbe venire fuori dal riconteggio in corso. La città dello stretto è dunque col fiato sospeso, a sperare soprattutto Felice Calabro, il candidato sindaco del centro-sinistra, che secondo i dati del lunedì pomeriggio si era fermato al 49,94%, i controlli dell'ufficio elettorale del comune, assistito così come vuole la legge da un giudice della Corte d'Appello, avrebbero però accertato degli errori che porterebbero alla vittoria di Calabro. Se così fosse, Messina non andrebbe dunque all'abballottaggio. All'ufficio elettorale sarebbero stati commessi degli errori nella trascrizione di tre verbali di sezione. In base al nuovo conteggio, Calabro supererebbe, sia pure di poco, il 50% e in dunque verrebbe eletto sindaco al primo turno. La partita si gioca su una mangiata di voti che, se come sembra dovessero essere attribuiti al candidato del centro-sinistra, spalancherebbero le porte ad un risultato clamoroso. Sotto accusa la lentezza dell'operazione di Spoglio, che avevano costretto la prefettura a intervenire oltre agli errori, a Messina c'è stata anche parecchia tensione. Due rappresentanti di lista sono stati denunciati a piede libero per esistenza pubblico ufficiale. A oltre 72 ore dalla chiusura dei seggi, la città dello stretto non sa ancora se tra due domeniche tornerà al voto per scegliere il sindaco. Nelle prossime ore però, sulla vicenda, dovrebbe essere messa la parola fine. Nel condizionale d'obbligo, se il riconteggio dovesse premiare Calabro, non escuse infatti un eventuale ricorso di Renato Accorinti, che si preparava ormai al balottaggio del 23-24 giugno.